Quanto abbia contribuito il terremoto sul processo di innesco della valanga che causò il crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017 non può essere quantificato, ma allo stesso tempo è impossibile da escludere. Dunque la superperizia realizzata dal pool di esperti del Politecnico di Milano su incarico del GUP Gianluca Sarandrea non scioglie il nodo riguardante il nesso di casualità tra terremoto e valanga, punto nevralgico su cui fanno forza difese in un modo e parti civili nell'altro. In sostanza le 390 pagine raidate dai consulenti Daniele Bocchiola, Giovanni Menduni, Claudio Di Prisco e Marco Di Prisco lasciano la porta aperta a qualunque possibilità. Per quanto attiene alla valanga, scrivono i professori del Politecnico, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato il proprio ruolo. Gli esperti passano poi al capitolo crollo definendolo prevedibile in astratto. Poiché se la carta di localizzazione dei pericoli da valanga fosse stata disponibile prima del disastro e se a seguito della sua emissione fosse stato redatto il piano zone esposte a valanghe, si sarebbe individuata un'area di espandimento comprendente quella dell'hotel Rigopiano. La perizia passa al setaccio anche le scelte dei vari enti in quelle ore di caos totale e parla di carenze organizzative. Se la turbina Unimog o la turbina dell'ANAS fossero state messe a disposizione per la pulizia della strada provinciale 8, questa sarebbe stata percorribile e la valanga avrebbe solo distrutto un edificio. Con riferimento poi alla tempestività dei soccorsi, la perizia implicitamente dice che era possibile far intervenire gli elicotteri Cesare e che ciò avrebbe potuto salvare altre vite. Ora la palla passa agli avvocati che approfondiranno i temi per poi passare alla discussione prevista per i giorni 26, 27 e 28 ottobre.